Bene, presentiamo anche questo impianto su Ford Fiesta di un caro amico, abbiamo sostituito l'autoradio di serie con una bellissima 9886 Alpine a cui abbiamo abbinato anche il processore Alpine PXH100, abbiamo apportato questa piccola modifica sul montante originale per posizionare correttamente il tweeter, visto la mancanza di una predisposizione appropriata, il tweeter chiaramente del sistema a due vie anteriore, che è uno Space 6 della Hertz, qui abbiamo rialzato il piano d'appoggio del passeggero posteriore per inglobare in modo molto decoroso e poco invasivo per quel che riguarda gli spazi, un amplificatore Hertz, nuovissimo, 4 canali nel bagagliaio abbiamo alloggiato un altoparlante subwoofer, qua si vede poco, dunque una piccola scatola utile ad implementare le prestazioni dei bassi all'interno dell'abitano. Bene, vi abbiamo fatto vedere anche quest'ultima nostra creazione, molto semplice, alla portata di tutti, grazie.